Ciao, sono Gabriele Esposito e siamo qui a Re Panettone e rappresento la pasticceria di Vivo. Si trova a Pompei dal 1955 e oggi qui abbiamo vinto il premio Re Panettone. Siamo al terzo posto con il pan mandarino. Il panettone è buonissimo, si ispira proprio al mandarino. C'è un infuso al mandarino, pasta di mandarino e una ganascia all'olio molto leggera. Usiamo solo le vito madre e una limitazione di 36 ore.